Primo mercato del sabato a Teramo dopo l'emergenza coronavirus. Se non fosse per il fatto che portano praticamente tutti le mascherine, si respira un clima di quasi normalità. Le bancarelle sono distanziate ovviamente tra di loro, si entra da una parte, si esce dall'altra e bisogna sanificare le mani con un gel che tutti gli ambulanti hanno posizionato vicino alla bancarella. Insomma una ripartenza buona per il mercato perché in giro, complice probabilmente anche la bella giornata, c'è tanta gente ma c'è un movimento ordinato. Le bancarelle sono distribuite in maniera diversa ma sono le stesse che c'erano prima dell'emergenza coronavirus? Esatto, le modifiche sono state tante a partire da Corso dei Michetti dove c'è una nuova disposizione a seguito dei lavori del corso. Su Corso San Giorgio è stata fatta l'impermeabilizzazione quindi c'è il divieto assoluto di passaggio dei mezzi, quindi sono tutti senza mezzi. Abbiamo un corso molto più arrioso, anche un'esposizione delle merci esteticamente migliore. È chiaro che l'area è molto più grande quindi abbiamo potuto togliere le bancarelle dove c'erano gli spazi più ristretti e posizionarle magari su Piazza Martri. Quindi le bancarelle sono le stesse solo che c'è più spazio e c'è più aria. E ci sono anche i controlli? Sì assolutamente, in questo caso ringrazio veramente l'Associazione Nazionale dei Carabinieri, i vigili urbani che con sei uomini più tre dell'Associazione Nazionale stanno controllando da questa mattina alle sei tutte le operazioni del mercato e soprattutto per evitare che le persone si assemblino lungo il mercato. Lei ha fatto un sopralluogo presto, stamattina alle sei era qua? Assolutamente sì perché è necessario comunque stare vicino agli ambulanti proprio quando ci sono questi cambiamenti per verificare sul posto se quello che abbiamo pensato poi è anche fattibile. Tant'è che abbiamo anche immediatamente messo a disposizione i parcheggi della Tercop dietro alla Banca Popolare di Bari e per questo ringrazio assolutamente la Tercop e Iachini perché hanno subito risposto di sì proprio perché c'era l'esigenza di piazzare tre o quattro mezzi che non riuscivamo altrimenti a sistemare bene all'interno della città. Quindi voglio dire c'è la partecipazione di tutti, c'è il coinvolgimento di tutti gli attori e mi sembra che il risultato sia veramente ottimo. Questa prima giornata come sta andando? Sta andando molto bene, abbiamo visto che comunque le persone rispondono al mercato, siamo orgogliosi di questa popolazione terramana. La gente sta rispettando comunque le regole, distanziamento sociale su tutto? Con tutta la cautela possibile, le norme le rispettiamo tutte quante e cerchiamo di fare il meglio. E sulle bancarelle ovviamente sono comparse anche le mascherine, è anche molto alla moda? Sì, abbastanza, ormai è diventato un accessorio, ecco noi ci auguriamo anche che venga preso per alleggerire questo momento soprattutto. Lei propone mascherine con i glitter, mascherine con il pizzo, poi c'è quella che va tanto adesso con la bandiera italiana? Beh bisogna essere patrioti in questo momento particolare, penso proprio di sì, però al di là di quello ecco questa varietà magari ecco ci fa vedere il mondo un po' più positivo, forse è quello.